Pochi credevano alla storia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che è sbocciata nella casa del grande fratello Vip. Una relazione che invece sembra proseguire alla grande. Il figlio di Walter Zenga e l'attrice siciliana hanno infatti deciso di vivere pienamente il loro amore andando subito a convivere a casa di lui a Milano, come non mancano di far vedere quotidianamente ai fan sui rispettivi canali social. E sono già arrivate le presentazioni in famiglia. Per Pasqua Andrea ha portato la sua compagna a Osimo. E anche se non sembra sono già passati quasi tre mesi da quando si sono innamorati e per festeggiare questo traguardo Rosalinda ha postato delle stories Instagram con Andrea Zenga in macchina. Quasi tre mesi ma quanto sei bello! La risposta di lui non si è fatta attendere. Sono in una situazione di imbarazzo incredibile. Quanto sei bello! Quanto? Sono in una situazione di imbarazzo incredibile!